Cristillin, temo un rigore di peste, che colpirà i giocatori della Juventus. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Penso che ci sarà qualcosa di meno della penalità di 15 punti. È Evelina Cristillin, che fa parte del consiglio FIFA come membro della UEFA e tifosa della Juventus, che ha parlato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 della decisione alla corte d'appello prevista oggi sul caso delle plusvalenze della Juve. La variabile UEFA c'è questo concetto di afflizione che riguarda solo la giustizia sportiva e non la giustizia comune. È probabile che sia una penalità che dovrebbe bloccare la strada per la Champions League, ha aggiunto Cristillin. Ora ricordate che ci sono tre coppe europee, ma certamente il valore economico di andare in Champions League o un'altra coppa è significativo, è quasi 5 volte tanto. Vedremo se saranno 10, 11 o 13 punti, per noi la Juventus è un bel colpo. Cristillin ha poi parlato della variabile UEFA in questi termini, quando i processi italiani diventeranno finali, le decisioni saranno prese anche alla UEFA. E poi c'è la seconda parte della manovra salariale. La Juve esclusa dalla Coppa UEFA? Possibile scenario. Penso che ci sarà qualcosa di meno della penalità di 15 punti. È Evelina Cristillin che fa parte del consiglio FIFA come membro della UEFA e tifosa della Juventus, che ha parlato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 della decisione alla corte d'appello prevista oggi sul caso delle plusvalenze della Juve. La variabile UEFA c'è questo concetto di afflizione che riguarda solo la giustizia sportiva e non la giustizia comune. Probabilmente sarà una penalità che dovrebbe bloccare la strada per la Champions League, ha aggiunto Cristillin. Ora ricordate. Ciao! Ciao!